Wow, Muso è perfetto per il video. Aspetta di vedere che cosa ho preparato. J.J. Abrams apre lo scrigno dei segreti per dare nuove indiscrezioni sull'identità di alcuni villain di Star Wars Episodio 7. Secondo la Tino Review, gli antagonisti principali del film saranno gli Inquisitori, introdotti come difensori dell'Ordine dei Sith. Il capo degli Inquisitori sarà una creatura per metà cyborg con una mano robotica. Nel film anche una sequenza di flashback con la comparsa di Darth Vader. Oh, noi non vediamo l'ora, voi? Presto ulteriori dettagli su questo fantastico episodio di Star Wars, quindi al prossimo video. Ciao a tutti!